Appuntamento importante nella giornata odierna a Camerino con il responsabile nazionale degli enti locali Marcello Fiori Forza Italia insieme al sindaco Gianluca Pasqui. Una visita di cortesia ma soprattutto una visita per prendere conoscenza di quella che è la situazione sul territorio post-sisma. Non di cortesia ma di vicinanza e di solidarietà. Fin dal primo minuto del terremoto dell'anno scorso sono stato vicino a Gianluca e alla sua comunità perché i problemi sono tanti, sono ancora gravissimi, la ricostruzione ancora non si vede. Gianluca combatte ogni giorno ancora con l'assistenza alla popolazione, con le macerie, con le casette che ancora non sono state terminate, con la ripresa dell'attività produttiva. Con tutti quei problemi che un sindaco deve affrontare in un terremoto che sembra non finire mai, fino a poche settimane fa ci sono state anche altre scosse. Si tratta ora però di impostare un programma, un progetto anche per il futuro. Per questo siamo dentro un impianto sportivo. Infatti proprio per quello avete visitato poc'anzi con la delegazione anche del CUS del presidente Velardinelli la piscina comunale. Qual è il progetto in cantiere? Noi non dobbiamo soltanto fare in modo che la popolazione non si allontani da qui, ma che il terremoto non lascia solo un pessimo ricordo, ma lascia una camerina ancora più bella, più innovativa, più proiettata come città del terzo millennio. Quindi nei progetti di ristrutturazione stiamo valutando insieme all'amministrazione comunale per quel poco aiuto che io potrò dare anche interventi di innovazione, soprattutto innovazione nel campo energetico e dell'ecocompatibilità, lasciare impianti che durino il più nel tempo e che siano più rispettosi dell'ambiente. Sindaco Pasqui, giornata importante anche perché in un momento difficile si parla di futuro, di ricostruzione e anche di rinnovare impianti sportivi. Sì, intanto vorrei sottolineare come Marcello Fiori sin dalle prime ore è venuto a fare da sostegno ad una comunità, non soltanto al sindaco, in maniera silenziosa ma attenta, precisa e portando soprattutto la sua professionalità e le sue competenze nella gestione dell'emergenza. Ha dato a me tantissimi consigli, li ha dati in maniera veramente mettendosi a disposizione della nostra comunità. Oggi siamo anche a guardare e soprattutto a guardare il futuro di questa terra che come ho detto sin dal primo minuto passa attraverso i nostri giovani e quindi queste strutture, le strutture che guardano lo sport per una città, Camerino, città dei giovani e quindi dello sport. Come sempre abbiamo detto sin da prima il terremoto, continuiamo a dirlo anche oggi perché esistiamo e dobbiamo appunto guardare in prospettiva quell'arcobaleno passando attraverso queste strutture che devono essere modernizzate, verso le quali bisogna volgere uno sguardo attento allo sviluppo anche murario e di tutto ciò che può essere fatto in termini di tecnologia applicata all'edilizia. Per cui io ho chiesto proprio a Marcello Fiori di poter essere vicino a me e quindi alla mia gente anche in questo percorso chiedendo dei consigli e mi pare che oggi già abbiamo iniziato a tracciare una linea di condotta molto significativa che immagino porterà degli ottimi risultati per un popolo affaticato ma esistente, ricco di valori e con grande forza.